Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, zucchero, uova, olio di semi di arachidi, yogurt alle nocciole, granella di nocciole, lievito per dolci, vanillina, sale e crema di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere prima l'olio e poi lo yogurt. Aggiungere il bimbi per 2 minuti, aggiungere la farina, l'amido di mais, il lievito, il lievito, la vanillina e il sale. ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. aggiungere la granella di nocciole ed azionare il bimbi per 20 secondi, anti orario, velocità 3. versare il composto in uno stampo da 24-26 centimetri ben imburrato. abbiamo messo la crema di nocciole in una sacca a poche, decorare formando delle strisce e ripassare due volte. decorare con la granella di nocciole. cuocere in forno prescaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, decorare con zucchero a velo e servire. torta soffice alle nocciole. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti!